molti di voi mi avete chiesto di parlare di integrazione dei miei integratori adesso vi devo parlare di lui omega 3 plus stiamo parlando di veramente io direi quasi la base di tutto allora dottor filippo ongoro mio amico tra altro è il primo medico anti invecchiamento di italia riconosciuto come tale lavorava con la esa european space agency è un medico spaziale non perché bello perché anche bello però non spaziale che lavorava con gli astronauti allora quando sono andata da lui e lui ti misura l'età biologico cioè l'età anegrafico cronologico ho quasi 50 anni poi c'è l'età biologico ok guardandomi quando mi guardi dice ma potresti anche dire no secondo me sembri un 80 anni però comunque quando guardi una persona tu assegni un'età fitizia perché può essere reale o non reale ok l'età biologico è legato alle tue funzioni fisiologici la tua capacità aerobica e le tue tempi di reazioni legato alla tua velocità mentale alla tua addirittura lunghezza e flessibilità muscolare insomma ci sono tantissimi parametri anche l'equilibrio che incidono sulla tua età biologica il primo lui ha detto gil secondo me il primo integratore più importante sulla lista di tutti integratori che ti darò che mi ha dato una lista nel lontano io adesso c'ho 49 anni 9 anni fa era lui omega 3 omega 3 addirittura presa durante la gravidanza può aiutare lo sviluppo del cervello del nascituro ok è una una mega omega 3 c'è la epa la dha e le ala che sono le tre diverse diciamo oli essenziali che ci servono perché noi non li produciamo nel nostro corpo però io voglio parlare in particolar modo delle epa e la dha che possono aiutarci con il sistema cardiovascolare che già molto importante perché ci aiuta il sistema cardiovascolare ci aiuta con le articolazioni perché aiuta a lubrificare tenere lubrificato rimpolpato le articolazioni ma la cosa più importante per quanto mi riguarda della omega 3 e potere che ha sul cervello come anti invecchiamento celebrale allora avendo 50 anni andando avanti verso le terze età io sono estremamente interessata a rallentare il processo di invecchiamento non per essere bella non per essere magra ma per essere funzionale ok funzionale quanto di voi purtroppo avete visto un parente un amico che è un parente che ha l'alzheimer's ok l'alzheimer's è una malattia degenerativa che non diminuisce la qualità di vita delle persone che ci soffrono di tutta la famiglia intorno a sé perché comunque gravi anche su le persone che ti devono accudire non voglio scendere sulla pesantezza ma spesso volentieri ho visto che gli italiani hanno questo pessimo abitudine di fare gli struzzi si mettono la testa sotto la sabbia fanno bla 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 non voglio sentire non voglio sentire perché se ignoro il fatto non se non accadrà a me ma se il sole sta di là e giro no il sole non esiste però non c'è il sole chiudo gli occhi e dico non c'è il sole il sole sta là e soltanto che voi vi state magari ignorando un fatto che potrebbe letteralmente cambiarti la vita allora se io comincio a integrare con omega 3 noterei noterò diverse cose allora mi aiuterà con la colestero la mia ci aiuterà con il muscolo cardiaco per chi per tutti veramente è importantissimo perché il muscolo più importante del corpo ma aiuta il cervello aiuta i bambini sviluppare il cervello aiuto noi a mantenere sano salvo e concentrato il nostro cervello e ci aiuterà poi infine anche il nostro metabolismo ok perché gli oli essenziali ci aiutano con tutto il processo metabolici perché comunque alla fine siamo un macrocosmo pazzesco e così omega 3 almeno un grammo al giorno però verità è che molti medici dicono tre grammi al giorno ok queste perle della mia omega 3 sono 1,5 milligrammi ciascuno così vi consiglierei di prendere due perle al giorno prendere tutti i giorni e poi fatevi anche qualche test sai quelli test quando vai a fare un test del memnoniche che vedi quanto è veloce il tuo cervello vedi che con l'utilizzo in due settimane tre settimane se non migliorano anche la tua concentrazione la tua focalizzazione così puoi stare più focalizzata su quelle che stai facendo dormirai meglio sentrai meno dolori articolari e magari ti aiuterà anche il tuo metabolismo a potenziare tutto quello con omega 3 ok vi aspetto la prossima vlog insieme mi raccomando scrivete le vostre domande sotto questo questo video se volete chiedervi qualche cosa rispondo a tutte le mie domande che mi arrivano su youtube condividete il video se vi piace mi raccomando iscrivetevi al mio canale per rimanere per nuovi video ogni settimana e passate una giornata estrepitosa ciao